Secondo i media spagnoli la figlia di Albano Carrisi sarebbe ancora in vita e avrebbe cambiato identità, novità sulla scomparsa di Ilenia Carrisi, dopo circa 26 anni è stata la televisione spagnola a riaccendere i riflettori su questa storia, stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i programmi di informazione di Telecinco, sostengono che la figlia di Albano Carrisi sia ancora viva, una rivelazione, che sarebbe in grado di cambiare per sempre il giallo su Ilenia. Dopo che Salvame ha iniziato a parlare di Ilenia, i genitori Albano e Romina Power sono andati su tutte le furie. Il cantante di Cellino San Marco, a tal proposito, ha anche rilasciato un'intervista in cui ha espresso tutta la sua rabbia, ha anche minacciato di agire per vie legali contro il programma spagnolo. Per Albano si tratterebbe solamente di una forma di speculazione e di spettacolarizzazione del dolore personale. La mamma, Romina, ha invece un'idea completamente diversa. Secondo lei la figlia è accento acuto ancora viva. La vicenda, però, non dovrebbe più essere oggetto di gossip. Stando a quanto è accento acuto stato raccontato in Spagna, Ilenia Carrisi sarebbe ancora viva. Aprebbe un marito e tre figli. Ilenia Carrisi è ancora viva? Da ormai 26 anni non si hanno più notizie di Ilenia. Nel corso di questo lungo periodo le ipotesi e le ricostruzioni si sono susseguite nella maniera più disparata. In molti, per esempio, sono convinti che Ilenia non ci sia più, altri, invece, sostengono che la ragazza sia ancora in vita. Confermando, quindi, la pista spagnola. La Carrisi avrebbe cambiato identità per iniziare una vita nuova, lontano da tutti e tutto. Secondo i ben informati, inoltre, a lei piaceva molto il nome Susanne. Potrebbe essere che la stessa abbia usato questo nuovo nome. Mai come in questa complicata vicenda, però, usare il condizionale e accento acuto davvero d'obbligo. L'incertezza sembra essere dominante e pochi sono i punti certi. Le piste fallite già nel 1994 era stato trovato il corpo di una ragazza, che assomigliava molto a Ilenia. Tanti erano i dettagli fisici, che confermavano ciò. Inoltre, la donna aveva con sé degli oggetti personali di Ilenia. Proprio questo particolare ha iniziato a fare sorgere una serie di dubbi nella polizia e negli investigatori. Vennero anche eseguiti i test del DNA sui genitori, Albano e Romina, per cercare di capire se quel corpo potesse essere della giovane Carrisi o meno. Alla fine, si scoprì che non era Ilenia la ragazza trovata morta. Con molta probabilità, però, la conosceva. Secondo fonti dell'epoca, si sarebbe potuto trattare di Susanne, una donna, che Ilenia aveva conosciuto nel corso del suo viaggio in America.